Dopo la menzione speciale del Ministero della Funzione Pubblica e la certificazione ISO 9001-2008, l'ente d'ambito ortonese si conferma primo in Abruzzo su 35 per la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Il punto è stato fatto in un convegno presso il Polo Eden a Ortona con esperti di settore. Anziani, disabili, famiglie, giovani, le politiche sociali sono sempre più al centro dell'attenzione delle amministrazioni pubbliche, chiamate a far quadrare ancora di più i conti in tempi di crisi tra le ristrettezze di bilancio da una parte e la qualità dell'offerta dall'altra. Un lavoro di equilibrio che evidentemente ben riesce a Ortona e gli altri nove comuni dell'ambito 28, proiettati ora verso la nuova sfida del CAF, l'autovalutazione dei servizi erogati alle rispettive popolazioni per ottenere la certificazione della qualità totale nella gestione. Il CAF, Common Assessment Framework, si basa sulla considerazione che risultati di eccellenza in termini di performance organizzativa rispetto ai cittadini, al personale e alla società si ottengono per mezzo di una leadership che governi le politiche, le strategie, la gestione delle risorse umane, delle partnership e delle risorse. Tra gli obiettivi c'è anche quello di esportare in altri settori dell'amministrazione pubblica le proprie buone prassi. Tra i relatori intervenuti, Sandro Pascarelli, ispettore nazionale ed esperto del CAF. È uno degli enti che esprime la maggiore qualità nell'erogazione dei propri servizi. Ho avuto modo di apprezzare le modalità di lavoro di questo ente già dal 2010, con il famoso premio di Brunetta premiamo i risultati dove l'ente di ambito è stato menzionato tra i migliori 34 enti d'Italia. La strada intrapresa ha portato subito alla voglia di migliorarsi ancora e di arrivare proprio alle tecniche di gestione della qualità totale. Il percorso fin qui realizzato è stato detto al convegno è il risultato della volontà comune della conferenza dei dieci sindaci dell'ambito ortonese che sin dall'inizio hanno voluto puntare sulla qualità dei servizi e sulla professionalità degli operatori. L'ente d'ambito 28 è il primo in Abruzzo ad avviare il sistema di qualità CAF. Abbiamo bisogno di lavorare costantemente con problemi di risorse economiche.